Ultimo unboxing dell'ultimo Kickstarter arrivato alla fine, proprio sul gong della fine dell'anno, della scadenza di dicembre, ed è Astronite. Questo nuovo Kickstarter, in realtà Astronite non è un gioco appena uscito, è un gioco che è uscito qualche tempo fa, ma è arrivato il Kickstarter della nuova espansione, cioè Astronite Eternity. Questo è un gioco che è molto molto simile, e lo vedete anche dall'azienda che lo produce, la Indie Board and Cards, che è molto molto simile a uno dei miei giochi preferiti, che è Aeon's Hand. Quindi in questo gioco noi ci troviamo, in realtà è un gioco estremamente simile, con qualche cambiamento, secondo me delle migliorie che hanno apportato Aeon's Hand. È un gioco nel quale noi, non è ambientato nel mondo fantastico, nel quale noi siamo maghi che dobbiamo muoverci e aprire portali di magie per distruggere il nemico, per difendere Gravehold, la nostra città. In questo caso noi siamo dei supereroi, dei cavalieri dello spazio che devono difendersi dalle alieni che arrivano ad attaccare la nostra città, la nostra terra. E i territori non è soltanto uno, cioè Gravehold, ma sono molti e diversi tipi di territori. Questo è il Kickstarter che è arrivato, e io vado ad aprire quindi tutto quello che è arrivato. Innanzitutto mi piace tantissimo giocare con le playmat e questo è una playmat del gioco. Vedete che qui è il luogo del boss, qui ci sono la difficoltà del boss, i livelli del boss, perché il boss muore ma cresce di livelli potenziandosi. Il rotatore dove ci sono i punti del boss, il mazzo del boss e lo scarto, il mazzo del boss e un altro scarto in caso abbia due mazzi e quasi tutti i mostri hanno due mazzi. Le carte Minion e dalla più vecchia alla più nuova, la mia Homeworld, la mia casa madre che deve essere difesa, la vita della mia casa madre, l'ordine del turno, il turno corrente e i sei mazzi di acquisti che noi possiamo fare. Come in EUNZEN noi possiamo acquistare al mercato le carte, anche se l'idea del mercato non sono nove mazzi ma sono solo sei, ma sono mazzi diversi e non sono la stessa tipologia. L'ho trovato molto molto interessante. Questo è il playmat del gioco, non del personaggio e non è ancora arrivato, e spero arrivi prima o poi, il playmat dei miei personaggi. Quindi questo lo mettiamo qui a destra e andiamo ad aprire il gioco originale. Il gioco originale è questo, da 1 a 4 giocatori, 60 minuti è il tempo che dicono dovrebbe essere il tempo di gioco. La scatola è un pelo più piccola di EUNZEN, eccolo qui, il mio Astronize. Questo è l'obiettivo del gioco, è quello di distruggere il mostro e più o meno l'anatomia e sia delle carte che del setup che è come funziona il mostro e del gioco, del player turn, è molto 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 simile a EUNZEN. I nemici cambiano un pochino, queste sono le plance dei quattro nemici di base, che sono nel primo gioco, quindi Furion. Questi sono i livelli di difficoltà, vedete che è a livello 2, livello 5, livello 8 e livello 8. Quindi Furion è il primo boss che si dovrebbe attaccare, scontrare. Questa è la plancia del mio giocatore, questa è Nashma. Qui abbiamo il livello della vita, qui abbiamo le cariche per poter attivare l'abilità del nemico esattamente come i maghi. Ad esempio, qualsiasi alleato può pescare 3 carte e poi può distruggere una carta in mano. Questo è Nashma, noi abbiamo il suo file personale con i suoi commenti e tutto il resto, la sua mano iniziale, la sua mano di mazzo. È esattamente come EUNZEN e abbiamo qui, invece di avere i portali, come dicevo, per aprire la magia, ma abbiamo gli slot dove noi possiamo mettere le nostre armi, le nostre weapon, perché noi siamo dei cavalieri, degli astrocavalieri. Quindi ogni slot può essere aperto per la... non ha la rotazione, come vi ricordate, delle carte per aprire i portali, ma ogni 3 energie puoi avanzare il tuo token, quindi la trovo... è molto più veloce, come dire, aprire i portali per caricare le nostre armi. Quindi abbiamo Nashma, abbiamo Zack, abbiamo Silas, abbiamo Tolly, Gavril e Cristina, sono ovviamente cavalieri con i personaggi. Abbiamo poi tutte le varie carte, i livelli dei nostri nemici, come vi dicevo, abbiamo la carta esperto o incubo per potenziare i nostri nemici, ovviamente i token vita e i token 1, 2, 3, 4 per l'ordine di turno. E' bello questo che abbiamo, invece di mettere tutte le carte in ordine, come nella scatola di Eonsend, qui abbiamo i pacchettini dove noi possiamo mettere tutte le carte inerenti ai nostri 4 avversari. Poi abbiamo il nostro supply deck, abbiamo tutti i mazzi personali e queste sono le varie città. Ho notato le nostre 4 città in cui esce la scatola, le nostre Homeworld, la casa madre. Abbiamo New Atlantis, abbiamo Nisarin, Karis, Ilong, eccetera, eccetera. Hanno diversi punti vita, ma anche hanno una abilità. Cioè noi possiamo potenziare la nostra città e a differenza di Greywald che ha 30 punti vita, queste carte hanno, ad esempio, delle abilità. Ad esempio, questa può essere attivata durante la fase principale di qualsiasi giocatore. I giocatori collettivamente riprendono due carte dal loro mazzo degli scarti nella propria mano. Quindi New Atlantis, una volta powerata, potenziata, può dare lo aiuto e ritorna indietro. Bellissime le artwork molto fumettose di questi giochi. E poi ci sono tutte le miriadi di carte che sono molto, molto simili alle carte. Sono un pelo più larghe delle carte di Eonsend, ma la misura è quella standard. Voglio vedere solo la qualità della carta. Eccola qua. Questa è una carta blaster, cioè la carta è la magia iniziale. Infatti, vedete, attacca, dai un danno. Poi abbiamo l'ordine di turno delle carte. Queste sono le carte del mazzo di Furion. L'azzo artiglieria di Furion. E poi abbiamo tutta questa popò di carte, che sono tutte le carte del nemico. Quindi queste sono le carte del nemico e queste sono le carte dei miei personaggi. Carte che dovrò ovviamente mettere nelle proprie tessere, nelle proprie bustine di plastica per poter giocare senza rovinare le carte. Quindi il primo lavoro sarà quello di fare tutto questo lavoro molto manuale di mettere le carte. Spero che magari mia figlia, prese da pietà, mi possano aiutare a fare questo lavoro che non mi piace particolarmente. Questo è l'originale Astro Knight. Questo è il gioco originale. Da uno a quattro giocatori. Poi abbiamo, ovviamente, questo invece è il pacco nuovo del gruppo Eternity, che non ho ben idea. È un Kickstarter, quindi ha delle cose Kickstarter un po' più carine. Queste sono le stesse identiche plance, le stesse identiche Silas, Toli, Zacre, vedete, Nasma. Sono le stesse identiche plance. Sono più spesse, sono colorate diversamente. Devo dire che il materiale di questo Astro Knight è molto meglio rispetto agli originali. Sono più spesse, quindi queste sono aggiunte che sono state fatte rispetto alla nuova. Poi, alla vecchia, scusate, edizione. Quindi questa è un'aggiunta in più. Queste invece sono le altre. è l'altra espansione, o meglio, il gioco più grande. Anche questo c'è l'obiettivo del gioco, c'è una campagna, quindi c'è la narrazione prima della prima battaglia, quindi c'è tutta una campagna che può essere fatta per questo gioco. Questo è, ovviamente, il regolamento che è uguale. Qua c'è il player head per dirti come sono le carte. Questi invece sono gli altri nemici con, vedete che c'è Diratian Benemoth, The Black Hole, bellissimo, questo sembra Capitan Harlock. Non so se vi ricordate Capitan Harlock, il vecchio cartone animato con la sua nave dei pirati. Il galeone del buco nero, questa è la scultura dell'ombra, quindi tutti questi nemici che sono di livello 3, 5 e 6, quindi abbiamo 2, 3, 5, 6, 8, 8 come livelli di nemici e i nuovi personaggi. Guardate qui quante ce ne sono. C'è Caleb, Zana, c'è sempre Zack, è un altro credo, spero, o è sempre quello, non lo so. Reshi, Capitan Cadiz, bello Capitan Cadiz, sembra proprio Capitan Harlock. Scuttlebutt, Naoko e Sunshine, questi sono gli altri personaggi che a loro volta hanno le loro mazze e questo assomiglia moltissimo all'Eon Zen Legacy. Non so se l'avete mai, io ho il Leon Zen Legacy che non ho mai aperto, qui si vede che sono tutte cose, mostri scatole che vengono aperte di volta in volta, perché questa è la campagna. Poi abbiamo tutti, vedete, dove devi aprire, devi leggere. Questo, chi ha giocato a Eon Zen Legacy e chi ha Eon Zen Legacy sa di che cosa sto parlando. Questi poi sono tutti i divisori, ovviamente, che bisogna mettere giù. Ci sono poi, questi sono tutti i roller che indicano la vita della città, non li ho visti nell'originale, ma forse erano sotto. Quindi queste sono la vita della nostra Homeworld e della nostra, del nemico, Homeworld e nemico. Questo è quello del nemico e questa è quella della nostra Homeworld, perché i personaggi e la loro vita ce l'hanno segnati direttamente qui, quindi muovi il pedoncino. Abbiamo poi tutti i mazzi, vedete, tutti i mazzi di anche quelle cose che si possono acquistare, le carte dei vari personaggi. Questo mi dice che è dovuto ad alcuni errori di stampa nella azienda che l'ha fatta, alcune carte della prima stampa del sistema di Orion e del pacco a gestorio sono state stampate troppo leggermente. Abbiamo riprinted, ristampato queste carte in maniera che possano essere uguali, probabilmente sono il retro che è un po' più chiaro, bene, bella cosa. Dobbiamo ripriassare le carte che hanno il colore un po' più leggero con queste carte per continuare il pacco, le trovo molto molto buono. Poi ci sono queste carte che sono tutti gli effetti di questo, ad esempio, The Mother, penso che sia uno dei mostri più terribili di tutti. Queste sono tutte le carte livelli del livello 3, livello 2. Ogni mostro, dicevo, che ha come parte dal livello 1, poi c'è il livello 2, poi c'è il livello 3 in cui il mostro diventa sempre più difficile, quindi abbatterli diventa sempre più difficile. Queste sono tutte le carte, ovviamente i 1000.000 token già divisi e li trovo molto molto buoni rispetto ad astronautiche dovevo tirarmele via tutti, questi sono già divisi, quindi io userò direttamente questi che mi piacciono assai. Sono anche un po' più carini, un po' più piccoli in questa versione. E poi c'è anche, in chiusura, questa che è il sistema Orion, che diciamo ha a che fare appunto con queste carte che sono state ristampate, quindi queste carte hanno a che fare con questo sistema Orion. Vedete che c'è sistema Orion e alcune carte accessorie, e quindi dovrò andare a cercare quelli che devono essere sostituiti. I astrocavalieri hanno combattuto coraggiosamente, ma c'è un'altra battaglia galattica che raggiunge il limite del sistema di Orion e hanno bisogno del nostro aiuto, il massimo aiuto che noi possiamo fare. Meno male che ci sono due nuove reclute, Alexios ed Elet, che andranno a aiutare a combattere questo nemico. Sono arrivate poi anche queste due carte che sono promo del Kickstarter, che sono identiche, non so se le hanno sbagliate o me ne hanno mandate doppie, è una nuova Homeworld e questo non può fare che piacere. È la nuova Homeworld che si chiama Silarix. Questa mi dice che posso attivare durante qualsiasi fase principale di un minion, di un giocatore, ogni minion e il boss prendono tre danni, però deve essere caricata di quattro. Bella questa carta Homeworld. E queste sono le carte Mercato. Vedete che sono... questa è una carta Weapon, cioè una carta che può essere armata, costa un botto, ma fa anche sette danni. Posso far restituire due carte che costano zero dal mio scarto di Scarpile, che costano zero, che danno energia, dal mio scarto fino alla mia mano. Questa invece è una carta tecnologia, quindi queste sono carte che fanno danni, e queste sono le vecchie carte, non mi viene in mente di Eonsend, com'è che si chiamavano, credo che fossero le magie o cose del... non le magie, non gli attacchi magici, ma le altre carte, e queste si chiamano tecnologie. Ad esempio io posso distruggere una carta nella mia mano, o in qualunque altro mazzo di scarto di un giocatore, e posso ripeterlo una volta, quindi posso distruggere le due carte. Sapete quanto le carte distrutte hanno senso. Poi, queste sono proprio uguali, me ne ha mandati i doppi, ma è la stessa identica a Silarix. Vabbè, sono due pacchetti in più. Questo è Astronite, vedete che c'è un botto di roba, come al solito quando arrivano i Kickstarter, sono molto molto curioso di provarlo. Probabilmente farò qualche partita a questo, ma voglio soprattutto partire con questa campagna che posso giocare perché ti porta abbastanza a lungo. Quindi questo è l'ultimo Kickstarter arrivato, in realtà c'è un altro gioco che sta arrivando, non so se arriverà prima della fine dell'anno, si chiama Kingfire, è un grandissimo gioco, non vedo l'ora di presentarvelo, ma intanto, nel frattempo, Astronites è il nuovo gioco che presenterò, spero, all'inizio dell'anno. Grazie per aver visto fin qua, se vi piace il canale ovviamente mettete un like, se vi piace il canale iscrivetevi, buona giornata a tutti, alla prossima.